Primo tavolo tecnico di lavoro per seguire da vicino i progetti inseriti nel patto per il sud per Gela, le compensazioni Eni e quelle minerarie. Riunione tra il sindaco Domenico Mersinese, il suo vice con delega all'industria Simone Siciliano, il presidente del consiglio comunale Alessandrasia ed i capigruppo consigliari. L'obiettivo è quello di fare il punto sui progetti cantierabili, i soldi previsti e la relativa ricaduta occupazionale, predisponendo una piattaforma concertata con le parti economiche della città. Il sindaco e l'assessore siciliano hanno illustrato lo stato di ogni investimento. Fino ad oggi sono stati impegnati circa 13 milioni di euro per il ripristino funzionale del porto, la realizzazione del museo che ospiterà la nave greca e la ristrutturazione dell'ex casalbergo di Macchitella. Altre idee sono quelle di realizzare un ostello della gioventù per riqualificare l'orto Fontanelle, ripristinare l'ex dogana per creare un infopoint museale, ripristinare la palestra dei Salesiani, creare un parco tecnologico per la gestione dell'illuminazione pubblica. Il secondo lotto per completare il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia sarà finanziato invece con altri fondi. Il presidente della Sisa Civica Asia ha chiesto chiarimenti sui fondi destinati alla formazione, mentre i consiglieri comunali Enzo Cascino ed Enzo Giudice hanno puntato l'accento sull'uso delle acque reflu e depurate del ragoleto per l'agricoltura. Messinesi ha spiegato che l'idea è quella di non far pagare oneri il primo anno agli agricoltori, compensandoli con l'entrata a Eni. Per Cascino il problema è dei cinque invasi non messi in sicurezza ma interrati. Il consigliere Sarabonura ha chiesto se il comune può anche intervenire sul rifacimento della pavimentazione della chiesa dei Salesiani, ma sugli edifici di culto il comune non può entrare nel merito. Il patto per il sud, ha detto il sindaco, è vincolato a progetti cantierabili. C'è una lista alla regione. Tutti i progetti esecutivi sono già inseriti. Il consigliere comunale Luigi Di Dio ha aperto al confronto. Noi non vogliamo essere d'intralcio ma d'aiuto, però sul protocollo si è molto in ritardo. L'assessore siciliano ha voluto aprire al dialogo costruttivo. Mi scuso formalmente se abbiamo dato l'impressione di volere lavorare da soli, ha detto, ma non c'era alcuna intenzione di farlo. Siamo qui ad accogliere proposte e vostre idee. Alessandra ci ha commentato positivamente questo primo confronto. Condividere dei percorsi con il consiglio comunale è importante, ha riferito. L'obiettivo è sempre il bene comune, considerato che siamo davanti ad uno scenario di cambiamento. Il tavolo permanente consentirà di seguire tutti gli leader passo dopo passo.